Questo programma è offerto da Tecnocampus Mercoledì 29 maggio, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche in questa nuova giornata alla nostra rassegna stampa che come ogni mattina è offerta da Tecnocampus Anche in questa giornata, in questo mercoledì, metà settimana ormai sono passati tre giorni dalle elezioni europee si continua a parlare di politica ma anche di tanti fatti ancora vediamo che ci sono strappi all'interno del Movimento 5 Stelle per quello che riguarda la gestione proprio del Movimento e tanti sono i fatti che circondano il Vice Premier Di Maio Insomma, veramente tante, tante, tante situazioni che si presentano sui quotidiani nazionali nella giornata di oggi ma andiamo a vedere subito col Corriere della Sera quelli che sono i fatti in primo piano e vediamo che appunto nella parte alta della pagina l'articolo di apertura a sedio a Di Maio nei 5 Stelle, troppi incarichi Il leader del Movimento 5 Stelle infatti è pronto a chiedere una nuova fiducia ai suoi e Salvini intanto pronto già a chiedere ancora piano da 30 miliardi per la flat tax e adesso veramente Salvini è convinto che riuscirà ad avere qualunque cosa forte del suo 34% alle europee è certo che riuscirà a, veramente, a trovare quelle che sono le soluzioni alle sue alternative e intanto vediamo quella che viene definita sindrome d'allostaggio e quella che viene annunciata proprio da questa prima pagina da Massimo Franco e ancora Rixi, io rispondo a Matteo e parliamo del processo e la richiesta di dimissioni e intanto Ernesto Galli della Loggia nel suo editoriale parla di quelle che sono le vere e proprie giostre elettorali perché di questo si sta parlando questo è quello che ci appare sempre più evidente sembra un gioco fatto a misura non di popolo ma ovviamente di quelle che vengono considerate le sfere alte della gestione del nostro governo e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano nella parte centrale della pagina la borraccia al giro, lo scabbio tra i due ciclisti e i milioni donati da Gattuso insomma, quei gesti generosi da sportivi che questa mattina rappresentano quel benessere che ci rende partecipi di una vita sempre più solidale nonostante si stia sfidando lo sport o comunque qualsiasi altra attività ci si stia sfidando però nel momento della difficoltà vediamo che con un gesto come quello dello scambio della borraccia diventa qualcosa di importante e soprattutto la volontà di non farcela semplicemente da soli a discapito di comunque chi sta vivendo un momento complicato e ancora vediamo gli altri fatti nella prima pagina del Corriere della Sera Angela Merkel sui nazionalisti occorre vigilare e rimane ancora il problema per la gestione del Parlamento europeo e intanto davenne allo scrittore il mio amore infinito la poesia di Leopardi dopo che ieri abbiamo visto che tutti si sono davvero mostrati nella loro volontà di esprimere un'opinione su Leopardi e soprattutto leggere quelli che sono i testi del grande poeta adesso ha anche l'amore infinito di Davenia in questa prima pagina ancora vediamo una brutta notizia di cronaca morto a dieci mesi nell'asilo nido intanto si indaga e ancora andiamo a vedere le altre prime pagine dei quotidiani nazionali vediamo questa mattina che cosa ci racconta nei termini di cui è capace la verità e vediamo nella parte alta della pagina sotto inchiesta al CSM l'ex capo dei PM di Roma e il suo aggiunto Pignatone e Ielo accusati di non essersi astenuti in indagini sul faccendiere Amara e Leni già in affari con i loro fratelli il giallo della presunta tangente da 25 milioni e in apertura di pagina flat tax da 30 miliardi in faccia all'Unione Europea Bruxelles minaccia lo spread sale ma Salvini continuano a rilanciare e per difendere le poltrone eccosi qua Moscovici e Company tornano a gettare benzina sul fuoco solo 48 ore al governo per rispondere alla lettera sui conti e nuove sanzioni già pronte ma il vice premier leghista tira dritto e cala il suo asso nel Movimento 5 Stelle di Maio finisce sotto processo e intanto la chiesa accecata dall'antileghismo è quella che viene definita una vera e propria deriva allarmante ovviamente nell'ambito della chiesa si è giocato un ruolo un po' particolare nell'ambito di queste elezioni e soprattutto nel non dissimulare quello che era il netto contrasto con la volontà di espressione della Lega insomma sempre più i contrasti tra il mondo cattolico e il mondo politico effettivamente contrasti che non ci dovrebbero essere si dovrebbe sempre arrivare a una sorta di mediazione o comunque un dialogo aperto e ancora vediamo le altre notizie in primo piano Armani vi spiego come si vince la guerra della moda le holding francesi si accaparrono tutto per lo stilista e ora infatti di reagire e intanto l'intervista a Luca Ricolfi Salvini e Roc di Maio e Lento e Bergoglio è sopravvalutato e ancora oltre le elezioni il sovranismo durerà a lungo perché tocca temi profondi e nella parte bassa della pagina ancora una volta uno scontro ma che Enricamette Ratzinger mi aveva punito smentito chi cercava di smontare il memoriale Viganò e intanto la rock star diventa populista via i cd dai negozi manifesti strampati e anche gli insulti insomma viviamo in un'era molto particolare in cui le proteste si fanno in maniera completamente diversa da quello che era un tempo e ancora vediamo il fatto quotidiano Papa Francesco dice ho visto i filmati dei migranti torturati nei Lager Libici chi chiude i porti mi mette tristezza ma purtroppo anche lui ha perso le elezioni e ancora vediamo nella parte alta della pagina l'ultima convocate i due vice non governo colliti e spada di Damocle del voto e Conte accordo Salvini di Maio o minaccia subito a casa il premier non continuerà a tutti i costi sotto il ricatto leghista quotidiano il capo del Movimento 5 Stelle infatti sta meditando le dimissioni ovviamente questo è il quadro che si presenta adesso ripeto dopo tre giorni dalle elezioni europee in cui si sono visti risultati probabilmente inattesi soprattutto dal Movimento 5 Stelle nonostante le valutazioni fossero state fatte in precedenza e adesso però ci si trova proprio a dover discutere del ti lascio ti concedo oppure no lasciatemi agire e adesso sembra che una crisi di governo possa essere una delle possibilità secondo quanto viene raccontato da questa testata infatti il capo del governo li lascerà sfogare un paio di giorni dopodiché si passerà alla riunione e quindi a conti fatti si vedrà cosa fare a Bruxelles intanto inizia la trattativa sulla futura commissione mercati in subbuio e lo spread raggiunge quota 290 intanto vediamo quelli che sono i punti di rottura le 10 questioni che dividono i gialloverdi Rixi TAV regioni e tanti altri e nella parte centrale della pagina esplosivo casa monica per raggi e il PM auto blindata alla sindaca infatti fonte confidenziale allarme il comitato per l'ordine pubblico e l'agente della polizia municipale che finora l'ha accompagnata nei suoi spostamenti è stato sostituito da due poliziotti e ci sono bonifiche preventive nei luoghi che deve visitare insomma anche per la sindaca di Roma si presenta un periodo complicato soprattutto per il timore di attentati e ancora miliardi a Torino i vincitori sicuri di FCA Renault la famiglia Agnelli e intanto il ministro della Lega Fontana processione per purificare la città del Gay Pride e ancora guerra nello Yemen nei bazooka e i missili per i sauditi passano ora da Monfalcone nella parte bassa della pagina ancora una volta si parla di gossip il caso Prati dal doppio documento ai debiti col fisco tutte le altre bugie di Pamela e infatti fu così che la storia del ricercato più famoso degli ultimi anni Mark Caltagirone finì nel programma con nome giusto e il programma è chi l'ha visto insomma dal gossip di Canale 5 a un programma che viene seguito un po' da tanti proprio alla disperata ricerca di questo personaggio che rappresenta un po' una sorta di mito e intanto vediamo Libero questa mattina come apre la sua prima pagina ed eccoci qua che titola così Movimento 5 Stelle impaurito blocca i lavori governo in coma vegetativo Sabini insiste ora flat tax è trattativa con l'Unione Europea per evitare erogne ma Conte non è più in grado di operare 5 Stelle dilaniati è impossibile ripartire tocca decidere chi stacca la spina corsa a scaricare Di Maio ipotesi referendum grillino proprio su Gigino e ancora vediamo guai a ignorarlo stiamo parlando di Silvio Berlusconi più forte dei nemici e dei suoi errori nell'editoriale di Feltri e nella parte centrale della pagina alla sinistra che sa perdere Chiamparino toglie il disturbo con classe e ad alta velocità infatti a 71 anni ha dichiarato tranquillamente che ci ha provato ancora una volta questa volta però i risultati non sono stati secondo le sue attese e ha deciso di restare a casa quindi lasciare quell'ambito politico che finora l'ha coinvolto così tanto e adesso in buon ordine si è ritirato e ancora vediamo quella che non sa perdere Cuperlo leghisti ignoranti hanno soltanto la terza media e ancora nella parte bassa della pagina andiamo a vedere le altre notizie eccoci qua il testosterone quello che viene definito l'elisir di vita lunga e attiva e ancora gli esperti del meteo che cosa dicono 30 anni fa in Italia pensate un po' il clima era come oggi e allora che cosa è successo di tutte le battaglie fatte per l'ambiente per il clima di Greta se adesso ci dicono che proprio siamo ritornati indietro nel tempo 30 anni fa il clima era uguale ma chi lo sa oggi sicuramente la situazione si presenta complicata per tutti noi perché al momento non siamo abituati ma effettivamente quello che tanto veniva appaventato come caldo assolutamente non si fa né vedere né sentire insomma il caldo che ci preoccupava così tanto per il momento ancora è ben lontano dall'essere parte integrante della nostra esistenza e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano questa volta passiamo sul giornale riparte la guerra giallo-verde di Maio commissariato Salvini muove e intanto da scacco il Movimento 5 Stelle si lura il leader il leghista lo sfida Rixi resta anche se condannato e Berlusconi in Europa missione supermediatore ancora nella parte centrale della pagina eccoci qua l'uomo conta più dei trofei la lezione di Gattuso al calcio lascia il Milan e rinuncia a 5 milioni e intanto Renzi spaventa già il PD il mio futuro non è qui e vediamo appunto nella prima pagina di questo quotidiano i progetti dell'ex premier e ancora continuiamo a vedere che c'è aria di crisi quelli che sono i timori del Colle raccontati dall'Alberto Signore mentre nella parte bassa della pagina eccoci qua così mi sono fumato un grammo di Omero la follia della cannabis il regalo in libreria adesso sembra diventata la moda del momento e sembra questo quello che ci vogliono raccontare dalle pagine dei libri la cannabis che molto spesso viene utilizzata in maniera inconsulta e soprattutto senza criterio adesso viene spacciata scusate il termine per qualcosa di benefico e positivo anche se molto probabilmente lo è però fatto in maniera controllata e oggi questo non c'è e ancora vediamo il tempo Di Maio offre la TAV per salvarsi giravolta in arrivo Salvini va in pressing su giustizia infrastrutture taglio delle tasse pur di evitare la crisi di governo Gigino sarà costretto a cedere a partire da quella che è l'alta velocità ma nei 5 stelle è già partito il processo chieste le dimensioni da capo politico e a chi capiterà a chi andrà il ruolo di Di Maio ecco questa è la domanda che ci facciamo tutti anche se probabilmente la risposta è già chiara e ancora vediamo il dem Maratin nell'abitacolo in estinzione no noi renziani resistiamo e nella parte bassa eccolo qua vediamo la notizia di cronaca che già abbiamo anticipato nelle testate precedenti tragedia all'asilo nido muore in culla 10 mesi il dramma all'appio inutili soccorsi il piccolo forse vittima di sindrome della morte improvvisa infantile ma comunque si sta indagando per comprendere le ragioni di questa morte l'aggressione al portuenze ti ammazzo brutto cane così hanno assalito l'arbitro e ancora piove si muore di freddo che batosta sui negozianti il fatturato pensate un po' è in calo del 20% e per la scuola la sicurezza della scuola parla il ministro Bussetti già pronti 7 miliardi e infine nella parte bassa della pagina la sfilata tra abiti pepro e archeologia ma anche suggestioni anni 70 questo è l'omaggio di Gucci all'antica Roma e ancora vediamo gli altri fatti raccontati dalle prime pagine questa volta vediamo la repubblica l'Europa in primo piano e l'Italia è già all'angolo battaglia tra Macron e Merkel sulla presidenza della commissione la fondo di Salvini isola Roma Juncker ecco la lettera che contesta i vostri debiti intanto è la rappresentazione di quella che è la nostra Italia nel suo governo in questi giorni in cui Conte si trova a dover bilanciare tra i due vice premier e intanto nella parte destra della pagina vediamo il mercato delle toghe una immagine che è abbastanza eloquente la legge uguale per tutti e anche la corruzione a quanto pare arriva al CSM indagato a Perugia il PM Palamara è l'uomo chiave degli accordi per la nomina del procuratore di Roma ancora vediamo le altre notizie in primo piano Calenda pronto a fondare un partito alleato del PD e ancora solo ora ricordo quell'incubo sotto i manganelli della polizia racconta la vicenda che l'ha coinvolto il giornalista di Repubblica che è stato malmenato e ancora nella parte bassa sempre di questa pagina Fiumicino i nazisti cancellati dalla poesia ancora vediamo gli altri fatti nelle prime pagine dei quotidiani nazionali ci spostiamo adesso sul mattino andiamo a vedere le notizie brevi nella parte alta della pagina e si parla di un libro il libro di Auschim Marsala e Corse d'Auto l'impero del Florio una saga suddista e un personaggio alla vigilia dei 70 anni il nuovo Springsteen scopre la nostalgia infine il calcio il riconoscimento Coulibaly pensate un po' diventa cittadino napoletano è un esempio ma lo andremo a vedere nei particolari nella seconda parte di questa rassegna stampa e intanto la rivolta del Movimento 5 Stelle di Magno in bilico dopo la debacle il leader finisce sotto tutela dimissioni l'ipotesi del voto sul Rousseau Salvini accelera sulla flat tax e Blinda Rixi resterà e Conte dice non mi sento commissariato e vediamo l'analisi cambiare la rotta per garantire quella che è la crescita intanto il caso domani i vertici con Berlusconi anche Forza Italia alla resa dei conti i campani serve subito il congresso e ancora vediamo nella parte centrale giusto per spezzare un po' questa parte relativa alla polemica il caso lascia l'allenamento dopo una lite mister Sarri ad alta tensione tra finale e pressing Juve e ancora vediamo quelli che sono i conti del club tra la rosa e i diritti il business Napoli è pensate un po' da mezzo miliardo e nella parte bassa della pagina per le interviste del mattino la Lega al Sud ora deve puntare ai voti moderati il grande garante del carroccio in Campania io candidato governatore decide Matteo e ancora mercatone 1 senza strategia adesso resta solo la crisi una crisi fatta veramente di tante persone che si trovano in difficoltà soprattutto con questo momento in questo momento di economia sempre più sballata e ancora il burnout l'OMS lo stress da lavoro adesso viene definita una vera e propria malattia ammalarsi di stress da lavoro da disoccupazione l'organizzazione mondiale della sanità ha infatti sdoganato il burnout considerandolo ufficialmente una vera e propria sindrome l'OMS ha anche fornito direttiva ai medici per diagnosticare tale condizione i sintomi vanno dalla mancanza di energia all'aumento dell'isolamento sul luogo di lavoro a sensazioni di negatività e appunto cinismo legati alla propria attività alla diminuzione dell'efficacia professionale l'OMS ha anche specificato che prima di diagnosticare a qualcuno di burnout occorre anche escludere altri disturbi che presentano sintomi simili come la depressione e a questo punto mi domando come sarà possibile definire il burnout e soprattutto verificare se dipende dal lavoro o da altro insomma questo è quello che viene raccontato questa mattina questo è quello che l'OMS ci racconta ma insomma una situazione che ancora è un po' incerta e ancora nella parte bassa della pagina si parla di Noemi ma questa volta per dare una buona notizia infatti Noemi lascia la rianimazione finalmente in stanza con mamma e papà Noemi ha lasciato il reparto di rianimazione del Santo Bono a distanza pensate un po' di 25 giorni dal grave ferimento in piazza nazionale la bambina abbandona il reparto ad alta intensità di cure dove è stata ricoverata finora ad accoglierla è una degenza attigua alla rianimazione e insomma viene ancora tutelata ancora monitorata ma in maniera molto più blanda scusate il termine che probabilmente non è adatto però più semplice per una bambina ma per chiunque e quindi il pericolo è al momento scampato e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano andiamo a vedere come ci racconta i fatti in questa giornata il manifesto e vediamo proprio che secondo il manifesto il governo sta viaggiando su un campo minato Salvini rinnova i suoi diktat i 5 stelle puntano i piedi la procedura dell'Unione Europea incombe mentre lo spread e la manovra in autunno diventano sempre più inevitabili e ancora gli incarichi vanno messi a disposizione il vice capogruppo 5 stelle al senato si dimette ma il messaggio è per Di Maio dopo la batosta elettorale il leader grillino è sotto attacco anche Paragone non risparmia colpi l'assemblea di oggi si preannuncia infuocata e vediamo come titola questa notizia il quotidiano il manifesto ed eccoci qua la casaleggio dissociati e infine nella parte bassa della pagina da Bruxelles Macron prova a condurre la sfida per i posti chiame intanto la sfida è con Angela Merkel e ancora ci spostiamo sulle testate nazionali questa volta però quelle che ci parlano di sport e lo andiamo a fare nelle prime pagine dei quotidiani nazionali e andiamo a vedere infatti che cosa ci racconta il corriere dello sport in questa giornata alle 21 la finale di Europa League con uno spettatore interessato e infatti Agnelli da Sarri il presidente della Juve in tribuna a Bacu per Chelsea Arsenal Maurizio si scopre penso alla partita poi parlerò con il club l'ite pipita David Luiz il tecnico furioso a questo punto lascia l'allenamento e nella parte destra della pagina allenatori li cambiano tutti ma per Cassi convince Gasperini il tecnico dell'Atalanta resta per la Champions se rinnova fino al 2022 la Roma spiazzata De Zerbi o Giampaolo non c'è stadio pensate un po' senza squadra e questo sembra essere il diktat principale di questa mattina intanto Conte a cena con Zanga e Marotta e nella parte bassa della pagina lo scandalo del calcio scommesso in Spagna arrestato Bravo ex Real Madrid e infine nella parte bassa della pagina Giro d'Italia Annibali all'attacco il giro si infiamma a fondo sul Mortirolo Rogic cede Carapaz resta in rosa e anche per questa prima parte della rassegna stampa è tutto ma non andate via perché non termina qui anzi abbiamo due minuti di pubblicità e dopo andiamo a vedere i fatti che ci riguardano più da vicino ossia tutti quelli che riguardano la regione Campania vi aspetto grazie a tutti a presto All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Bentornati in studio, vi ricordo che siamo in diretta, questa era la segna stampa di mercoledì 29 maggio. Tanti fatti in primo piano, adesso andiamo ad esaminare quelli che ci riguardano proprio da vicino, sia quelli della regione Campania e partiamo con la cronaca napoletana. Tangenti al porto di Napoli, le intercettazioni, sto pieno di soldi dicono. Danna, ex funzionario, ora collabora così favorivo le imprese amiche. Il PM manda gli atti alla Corte dei Conti e sentirà spirito come testimone. Sono a casa e sono pieno di soldi, si mantava al telefono Giancarlo Danna, ex funzionario dell'autorità portuale, che poi ammetterà davanti ai magistrati di aver ricevuto tangenti per pilotare le gare d'appalto. Le sue dichiarazioni sono ora agli atti dell'inchiesta, sfociata due giorni fa nell'ordinanza di arresti domiciliari, emessa all'indirizzo di sei persone, il funzionario dell'autorità Gianluca Esposito e gli imprenditori Pasquale Ferrara, Pasquale Loffredo, Pasquale Sgambati, Giovanni Esposito, Alfredo Staffetta e nell'applicazione di una misura interditiva della durata di un anno nei confronti dell'ex segretario generale dell'autorità portuale Emilio Squillante. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, però ci spostiamo, non andiamo ad esaminare esclusivamente la cronaca in questa giornata, ma andiamo a vedere i benemeriti del calcio. Coulibaly infatti sarà cittadino onorario di Napoli, ok, dal Consiglio Comunale. La proposta era stata presentata dopo i cori razzisti a San Siro, infatti il Consiglio Comunale ha detto sì a conferimento della cittadinanza onoraria al giocatore del Napoli, Coulibaly. La proposta è stata presentata dopo i cori razzisti contro il Campione Azzurro durante la partita Inter-Napoli giocata a San Siro nel dicembre 2018 a cui, come hanno ricordato i consiglieri Laura Bismuto e Nino Simeone Coulibaly, rispose con dichiarazioni che hanno dimostrato che oltre ad essere un fuoriclasse è un esemplare cittadino del mondo. Il conferimento della cittadinanza onoraria, sottolineano i consiglieri, a grande valenza simbolica ed evidenzia la natura antirazzista, multiculturale e multietnica della nostra città, di cui Calidù Coulibaly è e può essere degno rappresentante. E ancora continuiamo a vedere sempre per quanto riguarda le notizie belle di Napoli. Ancelotti in visita a città del Vaticano è stato un privilegio, dice, lo vediamo ritratto in questa immagine. E infatti i primi giorni di vacanza per Carlo Ancelotti, l'allenatore del Napoli, è stato a città del Vaticano insieme alla moglie Marianne come certificato dallo scatto su Twitter. La settimana comincia con una visita alla città del Vaticano, un privilegio, e Ancelotti venerdì sarà a Capri, ha organizzato una cena di compleanno cui parteciperà pure il presidente dell'Aurentis. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano e vediamo ancora che cosa accade proprio a Napoli. Consiglio regionale via al taglio dei vitalizi risparmi per oltre 2 milioni l'anno, la riduzione sarà almeno del 20% su una spesa annua che oggi è di 10 milioni e 700 mila euro. Infatti è stata approvata con 39 voti a favore ed una sola astensione dal Consiglio regionale della Campania alla legge che prevede un taglio dei vitalizi per i 232 ex consiglieri del Parlamentino della Campania. Il provvedimento è finalizzato, secondo quanto si legge nel testo della legge, a conseguire un risparmio di spesa in una più generale ottica di riduzione dei cosiddetti costi della politica nel recepire quanto ha formato oggetto dell'intesa Stato-Regioni. E ancora sempre per quanto riguarda Napoli, Alessandro Giuliano è il nuovo questore, dopo De Jesu che è andato a Roma arriva appunto Giuliano, investigatore di talento, scusate figlio di Boris, capo della mobile che fu ucciso dalla mafia, si insedierà sabato in via Medina. È stato infatti fin da giovane il talentuoso investigatore che ha fatto onore alla figura eroica di suo padre, assassinato dalla mafia, ha 52 anni appena compiuti, ora Alessandro Giuliano è il primo genito di Giorgio Boris Giuliano, attuale direttore dello SCO, il servizio centrale operativo e il nuovo questore di Napoli. Giuliano torna nella città dove tra il 97 e il 99 è stato funzionario alla squadra mobile, sezione Catturandi, primo banco di prova con la camorra, quella che aveva alle spalle le guerre sanguinarie tra cutoliani e nuova famiglia, ma era già lo straordinario hub nel narcotraffico radicato a Scampia e nell'era metropolitana e ovviamente nell'area metropolitana. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano e vediamo ancora una buona notizia che riguarda Napoli, la street art di Blubber arriva al manna. Dopo l'incursione tra i vicoli di Napoli lo street artist Blubber approda al manna. All'archeologico infatti inaugurerà la mostra L'arte sa nuotare, nota per i personaggi famosi ritratti con la maschera da sub. In questo video le reazioni dei napoletani alle opere apparse in città, sempre più bene anche a Caserta ne è apparsa una proprio all'esterno della reggia. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, questa volta ci spostiamo su Il Mattino, che racconta la cronaca che arriva direttamente dal mare dove la schiuma bianca è arrivata nel golfo di Napoli e ha fatto sì che si lanciasse l'allarme. I veleni mai vista una cosa del genere la vediamo ritratta in questa immagine e infatti lo strano caso giallo di Castel dell'Ovo, anzi lo strano caso bianco, il mare è mosso ma non troppo eppure nello specchio d'acqua intorno alla fortezza di Via Partenope e si stendono decine di linee bianchissime, lunghi fili di schiuma lucente che assediano le fondamenta del castello più antico di Napoli e si spingono fino ai baffi della scogliera. Nessuna increspiatura, nessuna traccia di schiuma si è vista invece a ridosso dei mori e degli altri scogli del golfo. In attesa delle verifiche dell'ARPAC, allertata dal Comune insieme al nucleo sommozzatore dei Carabinieri, resta negli occhi il mistero. E insomma, nei prossimi giorni vedremo effettivamente di che cosa si tratta. Ancora vediamo le altre notizie di cronaca. Blizza anti-clan a Napoli. Carabiniere ferito per il clonro di una tettoglia ed è grave. La droga soprattutto a Rione Traiano, il clan Cutolo, si era imposto rifornendo le piazze di spaccio di cocaina pura, la cosiddetta bomba atomica. E il di crack, marijuana e ashish, puntando alla conquista del malaffare nella periferia occidentale della città, da sempre è terra di scontri e di ambizioni di camorra, dove nel tempo clan diversi si sono alternati al potere. Chi vive da quelle parti lo sa bene, ci sono i momenti di tregua e ci sono i periodi di faida, quando quegli accordi non reggono più. L'ultima inchiesta della DDA di Napoli racconta un pezzo di storia criminale nel Rione Traiano e racconta l'ascesa dei Cutolo dopo l'ascissione dallo storico clan Pucinelli. Il blizio è scattato di buon'ora e un carabiniere è rimasto ferito a causa del crono di una tettoia sulla quale si era appostato. Insomma, i rischi del mestiere, un mestiere fatto davvero di tanta tenacia e lunga difficoltà. E ancora vediamo le altre notizie. Ancora una volta cronaca, marito tradito, stalker del rivale dopo la morte della moglie. Piange la moglie morta, ma poco dopo scopre che la moglie aveva intrecciato una relazione con un altro. A quel punto decide di mettersi sulle tracce dell'amante e lo rintracciano e gli dà tregua perseguitandolo per oltre un anno. Messaggi, minacce, telefonate notturne e pedinamenti fino all'aggressione fisica. Il dramma di un vedovo salernitano è approdato ieri in un'aula di tribunale quando l'imputato si è presentato davanti al gruppo Alfonso Scermino per l'udienza preliminare con le accuse di stalking e lesioni. Insomma, una vicenda complicata che rappresenta il nostro mondo sempre più difficoltoso e sempre più complesso. Ancora ci spostiamo a Caserta con Caserta News e vediamo ancora una volta, ci spostiamo a Casa Pesena, la ragazzina faccia a faccia con Don Barone in tribunale. Arriva all'atteso provvedimento del giudice mentre continua il pellegrinaggio dei testimoni dell'ex prete e infatti la quindicenne vittima degli abusi di Don Michele Barone sarà sentita nel processo a carico dell'ex prete del Tempio di Casa Pesena e quanto ha deciso il giudice francica del tribunale Santa Maria Capovetere che ha sciolto le riserve e ha disposto l'escussione della ragazzina con la modalità protetta in aula. Una decisione che era già nell'aria quella adottata dai giudici del tribunale samaritano davanti ai quali si sta celebrando il processo nel corso dell'udienza ha assunto il crisma dell'ufficialità con la nomina di una psicologa che coadjuverà giudici ed avvocati nell'escussione della giovanissima testimone adesso quindicenne. E ancora continuiamo a vedere gli altri fatti da Caserta News, ci spostiamo sulla parte politica andiamo a vedere ad Aversa, Gianluca, Golia e Peppe Stabile si dialoga per il ballottaggio l'apparentamento ufficiale appare difficile Alfonso prova a completare il capolavoro e vediamo infatti che passata la sbornia dello scrutino, la testa ad Aversa è già sull'appuntamento in programma domenica 9 giugno quando si sceglierà il nuovo sindaco col ballottaggio in campo ci saranno Alfonso Golia per il centro-sinistra e Gianluca Golia per una parte del centro-destra che intanto ha avviato i contatti con l'altro candidato sindaco sconfitto Peppe Stabile per cercare di capire se ci sono gli estremi per un appoggio al secondo turno e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano ancora cronaca tre arresti, falsi certificati per il clan in manette medico e il figlio del boss Camillo Belforte la cognata è un medico dell'Asla arrestati per i documenti rilasciati a Maria Buttone e vediamo direttamente che i carabinieri del comando la stazione Marcianise coordinati dal procuratore capo della Repubblica di Santa Maria Capo a Vetere Antonietta Trancone e Troncone dal procuratore aggiunto Antonio D'Amato hanno dato esecuzione agli ordini di carcerazione messi dal Tribunale di Santa Maria Capo a Vetere a carico di Camillo Belforte 39enne figlio di Domenico capo dell'omonimo clan Belforte e attualmente ristretto a regime di 41 bis ancora Carmela Allegretta 35 anni cognata di Camillo Belforte Giuseppe Di Maio 63enne medico i provvedimenti sono scaturiti dalla decisione della Corte Suprema di Cassazione di rigettare il ricorso promosso dai tre contro la sentenza del maggio 2018 e ancora vediamo gli altri fatti ci spostiamo su Caserta prima pagina questa volta si parla di politica però in questo caso di regionali Caldoro vuole ricandidarsi contro De Luca però la Lega lo mette in un angolo e infatti vediamo che cosa ci racconta questa testata Stefano Leterno indeciso nulla fatto da capo di opposizione contro il governatore De Luca ora in preparazione strategie per la sua ricandidatura perdente alle prossime regionali se il candidato è Caldoro significa che vogliono regalare la campagna di nuovo al centro-sinistra la Lega ha capito tutto e vuole un suo candidato il problema vero è che anche nella Lega che non c'è un candidato modello se queste sono le prospettive per adesso De Luca sicuramente può dormire sogni tranquilli almeno secondo quanto racconta questa testata e ancora per la rassegna stampa l'ultimo articolo della giornata eccolo qua vediamo The Voice la diciottenne di Pignataro Greta Giordano incanta a tutti e vola in semifinale ci viene raccontato da Caserta Focus vediamo l'immagine di Greta che approda la semifinale di The Voice la trasmissione l'onda su Rai 2 una diciottenne appunto di Pignataro maggiore che ha battuto nella sfida Tani e insomma la sua timidezza figlia dell'età e del grande palcoscenico è stata superata nel momento in cui ha cominciato ad esibirsi cosa che accade molto spesso ma questo non ci deve lasciare intimoriti mai per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi mercoledì 29 maggio è tutto terminiamo qui vi ringrazio per aver scelto Teleprima e per aver scelto questo momento importante della giornata l'informazione soprattutto ringrazio Tecnocampus che ogni mattina ci consente di comunicarvi quelli che sono i fatti in primo piano e di farne un dialogo aperto e soprattutto critico con voi grazie per essere stati qui con noi vi auguro una splendida giornata e come sempre vi rinnovo l'appuntamento per la mattinata di domani buona giornata a tutti e come sempre vi ringrazio per aver scelto il nostro canale questo programma è stato offerto da Tecnocampus grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti